Le riproduzioni scientifiche, ovvero le opere eseguite nel massimo rispetto delle molteplici differenze tecniche adottate dai maestri del passato, possono essere invecchiate e patinate permettendo ai futuri restauratori di imparare senza mettere a rischio le opere d'arte. Non vogliamo con questo dire che la riproduzione debba essere considerata un sostituto di una reale opera d'arte in restauro, ma riteniamo che possa configurarsi come uno strumento di conoscenza dell'aspetto materico di un oggetto d'arte. Si restaura solo la materia dell'opera d'arte, afferma Brandi, ma non c'è la materia da una parte e l'immagine dall'altra. Grazie. 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 Grazie.